La tua vita è la tua vita. Per loro invece questi sono gli esercizi di una ostinata disciplina. Tra pochi giorni batteranno il primato della staffetta 4% in stile libero. Tra pochi giorni batteranno il primato della staffetta 4% in stile libero. Tra pochi giorni batteranno il primato della staffetta 4% in stile libero. Tra pochi giorni batteranno il primato della staffetta 4% in stile libero. Tra pochi giorni batteranno il primato della staffetta 4% in stile libero. Tra pochi giorni batteranno il primato della staffetta 4% in stile libero.